con questo va subito quindi 1 girate ripetere 1 1 2 1 2 ok? volete immaginare il sacco della pezzaria a sto pezzario per quella ora è immobile vediamo questa braccia per farci fare un lavoro di meganistico, di interazione la cosa che stiamo a fare a piacca so che ci sono un po' di lunga in più di meno però la pezzaria non è un sacco un essere umano che risponde quindi per gli altri 1 1 2 mi sposto non così e tu fai questo è pericoloso dopo il terzo quarto con le mani su sposto il piede scendo e sposto l'altro piede tutti i tuoi piedi 8 1 2 passate arrivandoci se faceva schifo forza via partite partite sposto Non c'è bene, non c'è bene, non c'è bene. Non c'è bene, non c'è bene, non c'è bene. 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 Non c'è bene. Non c'è bene. Non c'è bene. Non c'è bene.